E' con profondo rammarico che abbiamo appreso dell'ennesima riunione del tavolo politico di centrodestra convocata dal presidente della regione Marco Marsiglio al quale non siamo stati invitati. In la piccata nota dell'Udc diffusa oggi la segretaria regionale Enrico Di Giuseppe Antonio e Marianna Scoccia, capogruppo del partito in consiglio regionale, per l'esclusione dall'incontro di ieri tra i coordinatori delle forze di centrodestra, svoltosi all'Aquila a Palazzo dell'emiciclo. Vogliamo ricordare i nostri alleati che l'Udc è parte integrante della coalizione di centrodestra in tutti i territori del nostro paese, in Abruzzo, che ha fatto parte, contribuendo alla vittoria, della medesima coalizione, sottolineano il segretario Di Giuseppe Antonio e il consigliere capogruppo Scoccia. L'Udc è presente con la coalizione di maggioranza di centrodestra in tante altre realtà comunali, provinciali e quindi anche regione. Noi quello che chiediamo è che si faccia chiarezza sulla posizione dell'Udc. Noi vogliamo sapere apertamente e chiaramente il ruolo che dobbiamo avere. Altrimenti ci comporteremo di conseguenza, ma non solo in regione, ma anche in tutte quante le altre realtà comunali dove è presente l'Udc. Il clima, insomma, è tutt'altro che sereno, tant'è che il segretario Di Giuseppe Antonio ha annunciato che entro la prossima settimana convocherà la riunione della direzione regionale del partito per un esame approfondito della situazione politica.